È la sua prima volta a Bezir Surmer? Sì, è la prima. Vedo che è stato raccomandato da un'agenzia che ha insegnato in molte scuole diverse. La ringrazio. Non era un complimento. L'Inghilterra e la Germania sono alleate da molti anni ormai. Quale inglese accetterebbe un posto da insegnante nella Lega delle Ragazze Tedesche di Hef Hitler? Il Führer würde was sagen? Min vater ist deutsch. Non amo le sorprese. Sono le figlie e le figliocce dell'alto comando nazista. Al momento opportuno requisiremo il collegio. L'Inghilterra può essere un posto molto ostile, soprattutto quando nasci tedesco. Riconoscere l'indole di una persona può essere difficile. C'è chi è buono e chi è cattivo. Ho una lista di cospiratori nazisti, traditori inglesi. Il nostro paese è in guerra contro la Germania. La Germania non deve catturare le ragazze. Può assicurarmi di non essere stato scoperto? Fermo! Polizia! Devo fermarli. Le mie ragazze non sono i nemici. Sono tedesche, vero? Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social. YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite, non perdetevi il nostro blog, blog.screenweek.it. Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone, Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV. Sono gratuite. Ciao!